E' stato approvato dalla Giunta San Giovanni Lapunta lo scorso 15 settembre il progetto esecutivo dei lavori di potenziamento dei dispositivi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un ascensore e una passarella di collegamento tra le varie ali del Camposanto Puntese. Il costo complessivo dell'opera è di 94.612 euro, anche una parte di questa somma, circa 10.000 euro, sarà scorporata in quanto il Comune vanta un credito nei confronti della ditta che eseguirà i lavori, che è la stessa ditta che ha realizzato l'ampliamento del cimitero nel 2008 e lo gestisce e lo manutenta da sette anni.